ciak si gira lunedì 14 giugno 2021 ringrazio rodolfo un caro amico su facebook perché grazie alla sua riflessione è nata la riflessione che ti faccio ora quando ti prepari per una grande partita utilizziamo la metafora del calciatore del giocatore di calcio già che siamo in un periodo di campionati europei di calcio allora quel calciatore cosa fa ma nello spogliatoio di solito porta una borsa gigante da calcio ci mette dentro il suo materiale si cambia entra nel campo per la sua partita allora io ti invito questa metafora fai come se la tua mente è questa borsa nella quale il calciatore mette il suo materiale cosa fa questo calciatore entra in campo per la partita con la borsa no lui mette le scarpe i parastinchi calzettoni una maglietta un pantaloncino e va nel campo di calcio va sull'erba allora anche tu lascia la tua mente la tua borsa da calcio lasciala nello spogliatoio quando hai una partita e entra solamente con quello che ti è necessario un pezzo di cuore il tuo corpo la tua sensibilità la tua forza la mente non produrrà nessuna giocata vincente la mente non produrrà nessun calcio di rigore vincente la mente non produrrà nessun calcio d'angolo rientrante per il gol la mente mente lo dicono in tanti lo dico anche io ricordando le parole il mio caro amico Diuson Correa che vive in Brasile a Curiciba che 21 anni fa mi diceva una cosa meravigliosa mi diceva che arriverà il giorno che si riposerà e avrà tutto il tempo per farlo oggi è qua per vivere per creare e per godersi il viaggio allora io ti saluto ti invito a mettere like a questo video se ti piace a iscriverti al canale se non l'hai già fatto e puoi anche iscriverti sul mio canale telegram perché da ieri sera ho aperto un canale su telegram un canale dove passano molte informazioni che secondo me porteranno un valore aggiunto per te e per me haug haug e per me ho aperto un canale su telegram